Sono saliti in sella le moto volanti e hanno comunicato con la centrale operativa attraverso la radio in testa e i berretti della polizia. Pomeriggio di festa per i piccoli pazienti della pediatria di Padova che hanno ricevuto la visita dei poliziotti delle volanti della questura. L'incontro è stato organizzato con l'associazione di volontariato, gioco e benessere in pediatria Onlus. Ai bambini sono stati distribuiti numerosi gadget come zainetti, cappellini, portachiavi, fasce, oltre ad un piccolo contributo donato volontariamente alla Onlus dagli appartenenti alla questura.